Sono millenove i grandi elettori tra senatori deputati e delegati regionali che oggi si sono riuniti in prima seduta per eleggere il dodicesimo presidente della Repubblica Italiana. Nel sistema politico del nostro paese il presidente è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale. È l'organo politico super partes che dovrebbe garantire il rispetto delle norme della nostra Costituzione. Ecco perché non è così facile trovare una figura che riesca a far convergere su di sé il consenso dei vari partiti. E di nomi in questo periodo ne sono stati fatti tanti. Veltroni, Amato, Finocchiaro, Prodi, Bersani, Mattarella, Rodotà e persino Feltri e Magalli. Tutti personaggi del mondo della politica e della società civile graditi a qualcuno ma sgraditi ad altri. E non è detto che sia fatta anche dopo il nome secco di Mattarella pronunciato stamani dal premier Renzi. Ma chi vedrebbero a capo dello Stato di Valdarnesi? Mattarella. Perché ho fiducia delle persone meno inquinate e lui mi sembra una persona che non è attaccabile. Tanti nomi ci sono e non so come fanno a proporli. Senti, attualmente non saprei, non ho le idee molto chiare. Che sia Mattarella o che sia la Finocchiaro o che sia anche Casini perché vedo sempre in fotografia in prima fila zitto zitto qualcosa può capitare. Un suo apolifio. Asso. Perché? Il sostituto d'ora che mi sembra un po' meglio di Estatrici. Io nessuno, figlierei all'estero. E' un gran problema, veramente. Ce le fanno di tutte così lo spettacolo si completa. Con Grillo e con tutti i grillini. Vai, sono tutti i grilli. Io Prodi. Perché? Perché lo vedo serio, una persona che di poche parole però mi sembra che facci fatti. Amato. Perché lo vedo? Perché lo vedo già un uomo di vecchio stampo. Vedrei uno di centro, uno più insomma dalla parte di centro ecco, sempre di sinistra se no... E' una domanda molto difficile. Io la vedo molto buia. Che le devo dire? Uno che non è né di destra né di sinistra. Come vedete anche la gente è piuttosto divisa sul nome del futuro Presidente della Repubblica Italiana. Riuscirà l'Assemblea dei Grandi Elettori a trovare presto un accordo? Di certo la votazione dovrà passare il quorum di 675 voti che qualcuno già considera un'impresa ma che prima o poi dovrà essere superato.